Monsignor Giovannitani è l'ultimo arcivescovo della storia di Urbino. La diocesi da una storia millenaria perde l'autonomia vedendosi ora accorpata a Pesaro. L'annuncio è arrivato sabato 7 gennaio. Come ventilato da mesi, la diocesi Urbino-Urbania-Sant'Angelo-Invado viene unita a Pesaro con Monsignor Sandro Salvucci, ministero della nuova arcidiocesi allargata. Vani sono stati tentativi della comunità urbinate di evitare un impoverimento culturale e spirituale per il quale negli ultimi mesi si erano raccolte anche più di duemila firme e la politica stessa si era schierata non condividendo questa scelta. Accorpamento che noi ci aspettiamo dalla politica, ma sinceramente dalla Chiesa, dal Santo Padre, questo non ce l'aspettiamo. Io perlomeno non me l'aspettavo. Che si continui a impoverire e quindi essere lontani dalle persone che sono più fragili perché sono in un territorio più impervio, più difficile da raggiungere. Quindi le comunità, spesso anche un po' più anziane che hanno veramente bisogno della Chiesa, della vicinanza della Chiesa per chi è della religione cattolica ma anche per chi è ateo. Quindi una decisione credo che noi non potremmo mai condividere. Al di là del messaggio che poi nella forma come è stato dato, non c'è stato dato il tempo neanche di recepire qual era appunto la decisione definitiva ma comunicato il giorno stesso dell'annuncio. L'arcivescovo Sandro Salvucci dopo otto mesi a Pesaro viene chiamato ad un allargamento di impegno senza precedenti e sabato in un videomessaggio ha cercato di rassicurare i fedeli dei territori del Monte Feltro. Comprendo molto bene i timori di chi, avendo a cuore le sorti future dei centri, delle comunità, dell'entroterra, vede in questa scelta il rischio di un abbandono anche da parte delle autorità ecclesiastiche, accanto alla possibile perdita di altri presidi di carattere civile nel territorio. È inevitabile che tutto questo sia considerato come un ingiusto e ingiustificato depauperamento di una terra ricca di storia, tradizioni, di realtà ecclesiali e sociali vive e dinamiche, nonostante il fenomeno dello spopolamento. Si tratta di un passaggio senza precedenti per Urbino e direi anche per Pesaro. Doloroso, certamente non facile da accettare, ma cercheremo insieme, vescovo, presbiteri, diaconi, consacrate, consacrati, fedeli laici, di leggere i segni dei tempi per aprirci alle novità che lo Spirito sta preparando per il futuro delle nostre Chiese e coglierne insieme le opportunità positive.